Bene, abbiamo visto l'ultima volta come la composizione di una sostanza composta, come il bicarbonato di sodio, possa essere espressa non solo come formula, in questo caso è una formula minima perché si tratta di una sostanza non molecolare, non solo come formula che ci dà i numeri di atomi contenuti all'interno dell'unità formula, appunto, del gruppo di atomi che rispecchia la composizione dell'intera sostanza, NaHCO3, quindi questa unità formula ci dice solo che gli atomi di ossigeno sono il triplo del numero di atomi di carbonio, ma anche il triplo di quelli di idrogeno e il triplo di quelli di sodio, dove gli atomi di sodio, idrogeno e carbonio sono invece uguali in numero. Quindi abbiamo i rapporti tra numeri di atomi in una formula. In questo caso invece abbiamo visto che le stesse quantità di elementi possono essere espressi non come numero di atomi, quindi rapporti tra numeri di atomi, ma come semplicemente frazioni dell'intero. Quindi abbiamo dovuto calcolare l'intero come somma delle masse relative di ogni elemento. E rapportando quindi la massa di ciascun elemento alla massa dell'intero, abbiamo trovato le diverse frazioni dell'intero, che infatti sommate insieme ci davano il valore 1 dell'intero. Queste frazioni 27 parti su 100, 1,2 parti su 100, 14,3% e 57% possono essere automaticamente rappresentate in un diagramma a torta che ci dà una visione più diretta, più immediata, del fatto per esempio che l'ossigeno è ben più della metà nella composizione in massa di questa sostanza. Ora andiamo a vedere quindi un terzo modo per rappresentare la composizione di una sostanza, di un composto diciamo. Andando a vedere in che proporzione sono i vari elementi, le masse dei vari elementi tra di loro. Quindi siccome le masse le avevamo già calcolate, le masse relative elemento per elemento, andiamo a utilizzare queste masse per calcolare le proporzioni. Per esempio, in che proporzione è il sodio rispetto a quale elemento scegliamo? Dobbiamo scegliere un elemento ben preciso. Scegliamo normalmente quello che è presente con minor massa, l'idrogeno. Quasi sempre se c'è, questo elemento di riferimento è l'idrogeno, perché l'elemento idrogeno è quello fatto da atomi più leggeri di tutti gli altri elementi. Quindi se in una sostanza ci sono anche diversi atomi di idrogeno nella formula, comunque tutti messi insieme solitamente non arrivano alla massa degli altri elementi combinati. Quindi solitamente se c'è l'idrogeno si sceglie l'idrogeno, altrimenti si sceglie il più leggero, cioè quello presente con una massa inferiore tra tutti i vari elementi. Allora, quindi prendiamo l'idrogeno come riferimento, e allora andiamo a dividere la massa del sodio, che è questa, complessiva, con barra, e mettiamo, per bloccare la colonna C della casella C6 del sodio, scriviamo dollaro C, così ho bloccato la casella, e quindi anche per gli altri elementi, carbonio e ossigeno, utilizzeremo sempre il valore dell'idrogeno. Faccio invio e ho trovato la massa. Ora devo semplicemente copiare, ho trovato la proporzione, cioè devo copiare questa proporzione sulle altre caselle, quindi faccio copia, la scrivo anche per l'idrogeno, anche se non servirebbe, e faccio incolla, incolla così, ecco, e quindi vediamo che ovviamente per l'idrogeno, l'idrogeno rapportato a se stesso, ci dà una proporzione 1 a 1, qui invece abbiamo una proporzione 22,8 a 1, 11,9 a 1, 47,6 a 1, perché stiamo sempre rapportando all'idrogeno. Di conseguenza, a cosa servono questi valori? Non erano più comode le frazioni? Certamente, le frazioni sono molto più comode, molto più comode se ci interessa sapere proprio per una singola sostanza in che proporzioni, cioè in che frazioni dell'intero sono presenti i vari elementi. In questo caso invece, l'utilità è che ci può servire per confrontare le proporzioni presenti in sostanze diverse. Ecco perché può essere utile conoscere le proporzioni degli elementi, uno rispetto all'altro. Andiamo a vedere adesso, quindi, su un altro caso, per esercitarci, e poi confronteremo i due casi. Allora, in quest'altro caso abbiamo un'altra sostanza formata dagli stessi quattro elementi, cioè sempre sodio, idrogeno, carbonio e ossigeno, di cui abbiamo già inserito gli indici, 1, 3, 2 e 2. Andiamo a controllare, la formula sarebbe NACH3COOO che equivale a NAC2H3O2. Quindi, anche questa è una sostanza non molecolare, è una sostanza ionica, e quindi questa che noi stiamo utilizzando è una formula minima. Allora, andiamo a moltiplicare adesso gli indici, quindi un sodio, due carboni, tre idrogeni e due ossigeni, li andiamo a moltiplicare per le rispettive masse relative, masse atomiche relative. Quindi scriviamo uguale massa atomica relativa per, questo non è né più né meno di come abbiamo fatto anche per il calcolo della composizione come frazioni. Quindi, incollo questa volta faccio direttamente così, volendo possiamo anche trovare il peso formula, non ci vuole molto, serve sempre a ripassare uguale somma di tutte le masse relative degli elementi che si trovano nell'unità formula. Faccio invio e quindi vedo che il peso formula è leggermente più basso di quello che aveva il bicarbonato di sodio. Che era ok. Quindi, adesso andiamo a fare la stessa determinazione sull'acetato di queste proporzioni in massa. Come devo fare? Ripetiamo la stessa procedura di prima. Quindi, seleziono la massa del sodio, massa relativa del sodio e faccio diviso il litrogeno ce l'abbiamo sempre in C6 diviso dollaro C6 dollaro C6 e così blocchiamo sull'idrogeno e questa è la proporzione sodio sull'idrogeno. Quindi, possiamo scrivere qui che la proporzione è Na su H. Questa è la proporzione che abbiamo appena calcolato. Quindi, vediamo che il sodio è 7,6 volte di più dell'idrogeno in massa. Non come atomi perché come atomi il sodio in realtà è un terzo dell'idrogeno. Ma, stiamo facendo appunto le proporzioni in massa sull'acetato. Adesso posso trascinare questo sugli altri chiaramente anche questa volta otterrò un 1 esatto per l'idrogeno quindi se io faccio H su H è logico che ottenga massa di H su massa di H mi darà 1. Invece qui non è 1 C su H ma è 7,9 quindi le proporzioni non sono identiche. Vediamo come possono essere per esempio capitare quelle degli degli atomi le proporzioni tra atomi in questo caso abbiamo O su H la proporzione ossigeno sull'idrogeno vediamo che l'ossigeno è un po' più di 10 volte in massa rispetto all'idrogeno. Ok adesso allora vediamo l'utilizzo di questo diverso modo per indicare la composizione di una sostanza. Quindi torniamo all'altro e ce lo copiamo al di sotto a quella che abbiamo visto e adesso diventa più facile fare il confronto. Vado qui lo inserisco però faccio una cosa faccio un incolla quindi faccio rivedere un po' tutta la procedura quindi qui faccio copia come avevo fatto poco fa da tastiera poi qui invece invece di fare incolla semplice faccio un incolla speciale e incollo solo i valori perché altrimenti me li ricalcola con le nuove con i dati che ora sono diversi quindi otterrei i dati completamente sbagliati. Allora andiamo a vedere adesso quindi a confrontare le proporzioni con le proporzioni confronto questa proporzione con questa proporzione dopo aver scritto che però questa si tratta del bicarbonato proporzioni bicarbonato non ci scriviamo di sodio perché lo sappiamo quindi come faccio prendo per esempio quelle maggiori che sono quelle sotto rispetto a quella superiore quindi bicarbonato su acetato quindi facciamo bicarbonato su acetato su acetato elemento per elemento chiaramente quindi qui scrivo uguale questa quindi facciamo matematicamente questo confronto non a occhio ok e poi devo semplicemente viene fuori esattamente il triplo che strano faccio la stessa cosa sulle altre e vedo che vengono dei numeri abbastanza semplici molto precisi questa quindi noi osserviamo che rapportato all'idrogeno nel bicarbonato c'è il triplo di sodio combinato in massa idrogeno non lo guardiamo neppure che è chiaro che è uguale mentre nel caso del carbonio c'è una volta e mezzo più carbonio nel bicarbonato che nell'acetato nel caso dell'ossigeno ce n'è quattro volte e mezzo più ossigeno nel bicarbonato che nell'acetato possiamo anche esprimerli come numeri interi quindi andiamo a scrivere qui facciamo anche qui centrato centriamo e riduciamo le cifre vediamo come viene qui abbiamo un 3 ecco e quindi andiamo a ridurre perché ci interessano i numeri interi o delle frazioni semplici qui non ce lo scriviamo per niente qui ci mettiamo che questo sarebbe tre mezzi noi comprendiamo che qui abbiamo i tre mezzi e qua invece abbiamo i nove mezzi perché 4,5 sarebbe la frazione nove mezzi allora andiamo a vedere che cosa significano questi numeri questi rapporti questi numeri interi o semplici significa che appunto la quantità è esattamente il triplo la quantità in massa la massa di sodio è esattamente tripla se rapportata sempre all'idrogeno nel bicarbonato che nell'acetato mentre qui la massa è dei tre mezzi e qui la massa è dei nove mezzi quindi sono delle frazioni semplici o dei numeri interi semplici su questo poi discuteremo con un altro pezzettino di video il significato di questa strana coincidenza